Sempre più spesso si parla di terza dose, ma non si ha chiarezza su chi dovrà fare questa somministrazione aggiuntiva o addizionale. Lo abbiamo chiesto al dottor Giuseppe Ciarrocchi del Dipartimento di Prevenzione dell'area vasta 4 di Fermo, che ci ha spiegato che la terza somministrazione va a completare il ciclo primario di immunizzazione nei soggetti ultra fragili come i trapiantati, i pazienti oncologici, i soggetti affetti da patologie oncoematologiche, affetti da artrite, malattie croniche dell'intestino e dializzati. Per la terza dose, per la quale c'è tanta confusione, a che punto siamo? Qual è la verità? La terza dose, più che terza dose, io parlerei di dose addizionale. È in pratica una dose prevista per il completamento del ciclo vaccinale di base, cioè per alcune categorie di soggetti, i soggetti immunocompromessi, i soggetti che hanno subito un trabbiando d'organo e quindi che fanno terapia immunosoppressiva, idealizzati. Per queste categorie di soggetti è previsto un ciclo di base non più a due dosi, ma un ciclo di base a tre dosi. Quindi noi partiremo con questi soggetti che sono stati, molti di questi sono stati vaccinati con due dosi, quindi devono completare il ciclo, che è un ciclo di tre dosi e riceveranno la terza dose in ambiente ospedaliero, come hanno fatto le prime due. Secondo la circolare ministeriale del 14 settembre scorso, i pazienti ultrafragili verranno richiamati per la somministrazione che avverrà nei diversi reparti in cui ciascuno è in cura per le proprie patologie. In merito alla terza dose booster, che va fatta dopo almeno sei mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale di base, non si hanno ancora precisa indicazioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, ma sarà certamente disposta per i over 80, i fragili e i sanitari sottoposti ad un alto rischio.